Come si fa a capire quando è partito? Parti il cronometro. Ah ok, è partito. Buongiorno, sappiamo tutti quanto l'informazione è importante. Oggi 23 dicembre, anti vigilia di Natale, voglio lasciarvi con un messaggio positivo presentandovi questa iniziativa che si chiama Giornalisti nell'erba per far crescere un ordine dei giornalisti nella maniera migliore possibile. Questi sono giornalisti giovanissimi e qui abbiamo la direttrice Paola Bolaffio e una redazione composta da moltissimi ragazzi che vanno dai 3 ai 29 anni e quindi si informano, scrivono e contribuiranno a farci fare un'informazione sempre migliore, ad avere un'informazione sempre migliore. Paola, qual è l'ultima iniziativa che state portando avanti? Ma è inchieste, inchieste e laboratori su nuovi giornalismi, soprattutto ovviamente noi ci occupiamo di ambiente, giornalisti nell'erba è questo, è il suo significato, quindi è un giornalismo ambientale d'assalto, di indagine, ovviamente affiancata da esperti veri, che aiutano. Spero di avere anche te con noi. Senz'altro, volentieri. Ricordaci il sito web, così invitiamo tutti gli amici a andarlo a visitare www. giornalistinell'erba.it è il giornale, la testata online, e giornalistinell'erba.org è il sito istituzionale. Bene, allora buona informazione a tutti.